Buonasera, avremo un inizio di settimana all'insegna del tempo più stabile sulle nostre regioni settentrionali grazie all'alta pressione che tornerà a proteggere parte del nord mentre il sud sarà interessato da questo vortice di bassa pressione che provocherà ancora qualche pioggia. Infatti già questa notte avremo piogge che interesseranno l'estremo sud e le due isole maggiori con il rischio di temporali localizzati, poi domani queste piogge continueranno ad insistere ancora una volta sulle stesse zone, si estenderanno anche sul medio adriatico e sulle nostre alpi orientali, il tutto con temperature massime che saranno in aumento un po' dappertutto con punte di 23 gradi al centro nord.